Una riforma complessiva della pubblica amministrazione regionale ferma al palo, un numero sproporzionato di dirigenti in relazione ai dipendenti, un ogni 15, il taglio del salario degli impiegati della regione Abruzzo che ha significato la perdita di 1000 euro all'anno. Sono alcuni dei punti alla base della proclamazione dello stato di agitazione del personale della giunta regionale d'Abruzzo. Le segreterie regionali di CGL, CISL, UIL e UGL hanno deciso la misura per riportare al centro dell'agenda politica un tema, quello della legge regionale 35 di riforma della macchina burocratica abruzzese che è rimasto, a loro dire, lettera morta. Non è solo una questione di salario. Non c'è nessun investimento sul personale, non si investe informazione, non si sa quale deve essere l'allocazione per esempio delle nuove funzioni che la regione Abruzzo dovrà avere a seguito del passaggio appunto di funzioni dalle province. Non si sa dove il nuovo personale verrà allocato, non si sa quale deve essere l'organizzazione della regione in termini di sedi periferiche e quindi noi su questo chiediamo più attenzione o un maggior impegno. È giusto che si sappia anche in un discorso oggi complicato sui servizi provinciali che devono essere assorbiti dalla regione dove ci sono tanti dipendenti legati che sono a rischio di esuberlo mentre la regione non fa altro che assorbire soli dirigenti. So che hanno assunto 7-8 dirigenti provinciali. I sindacati denunciano disorganizzazione, approssimazione, disattenzione e non curanza da parte dei vertici della regione Abruzzo e dicono di volersi sedere al più presto attorno ad un tavolo per discutere le proposte e le soluzioni che mettano riparo al caos che si sta creando. Bisogna riorganizzare gli uffici in modo di dare un servizio un po' più celere e più veloce ai cittadini. Quando si parla di chiudere alcune sedi periferiche noi non abbiamo detto no, verifichiamole, andiamo a verificare e quantificare quanto personale bisogna togliere dalle zone periferiche. Cosa chiedete? Noi chiediamo il travaso di fondi dal comparto della dirigenza al comparto del personale. Questo tutto avverrebbe a costo zero per la regione quindi non c'è un ulteriore sborso di spese però ci sarebbe un equilibrio e anche la valorizzazione di questo personale che negli anni è stato diciamo così fortemente messo alla prova.